La decisione di Twitter non è senza conseguenze, perché se è vero che si tratta di un'azienda privata, è altrettanto vero che ha una responsabilità collettiva, più estesa di quello che recita il suo statuto. Si tratta di un precedente inquietante? Può essere Twitter a definire i confini della libertà d'espressione? Il dibattito è aperto. Sono parole che trovate questa mattina sul Foglio e su altri giornali. Questa mattina per cambiare ho preso il quotidiano del buon Cerasa, che tendono a leggere molto, ma alcuni amici me lo consigliano per via degli editoriali particolarmente originali e fuori dal comune. Come dicevo, questa mattina si parla su ogni giornale di Trump e del fatto che una piattaforma importante come Twitter abbia deciso di bannare, potremmo dire, sospendere a vita l'account dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa decisione farà discutere come, più o meno un mese fa, in seguito ai fatti del Campidoglio americano, ha fatto discutere la sospensione di Twitter, Facebook e altre piattaforme ai danni, ancora una volta, di Donald Trump, colpevole di aver organizzato, orchestrato, più o meno indirettamente, un vero e proprio colpo di Stato ai danni delle istituzioni americane. Ora, questo dibattito è stato in grado di canalizzare molte energie, anche sui social network, energie intellettuali, intorno alla questione. È auspicabile che delle piattaforme private assumano il ruolo di arbitri del dibattito pubblico e politico? Ecco allora che da una parte abbiamo i paladini della libertà d'espressione a tutti i costi, i quali sostengono che, essendo le piattaforme private, certo, ma che esercitano una funzione pubblica nella misura in cui diventano la condizione per avere accesso al dibattito pubblico, ecco queste piattaforme devono rispettare i punti di vista anche dove questi punti di vista rischino di determinare conseguenze negative e nefaste per la comunità, perché appunto la libertà d'espressione è un assoluto o qualcosa di simile. Dall'altro lato abbiamo invece coloro che, contro il presidente americano e in generale contro le fake news e insomma tutte le notizie che circolano sul web, contro la scienza e contro le altre istituzioni, affermano che sia auspicabile invece un interventismo di queste piattaforme, un interventismo volto a disciplinare questo mare grande e terribile della rete, che senza una disciplina di qualche tipo rischia di produrre sistematicamente tempeste. Ecco allora che è auspicabile che Mark Zuckerberg e altri grandi leader e presidenti delle varie aziende della Silicon Valley, è auspicabile che costoro intervengano, introducendo dei criteri per distinguere tra vero e falso, e all'occorrenza abbiano anche il diritto di espellere, bannare coloro che, come il presidente Donald Trump, diffondono false notizie, come che le elezioni sarebbero state rubate. Ora, è interessante, no? Perché questo dibattito presuppone punti di vista assai divergenti, ma da ambo le parti, a mio avviso, nella misura in cui si è onesti intellettualmente, si deve riconoscere che esistono delle buone ragioni per difendere entrambi i punti di vista, perché da un lato la libertà di espressione va salvaguardata, anche e soprattutto quando coloro che ne fanno uso la impiegano come noi non vorremmo, ma appunto in questo sta il principio di libertà, difendere la libertà degli altri anche e soprattutto quando non sono d'accordo con noi. Da un altro punto di vista è però vero che una comunità democratica non può dividersi sistematicamente su tutto, e quindi è auspicabile che ci sia una opinione pubblica che, almeno su alcuni punti, come il vincere o meno le elezioni, concordi, condivida una versione unica della storia. Questi punti di vista, dicevo, sono rispettabili e continuano a scontrarsi in vivacissimi duelli mediatici e anche amicali. La questione è però, la premessa di questo discorso, e cioè che siano state le piattaforme a estromettere Trump dal dibattito pubblico, è fondata? È andata effettivamente così? Perché capite che, in caso contrario, tutto questo dibattito sarebbe sicuramente stimolante, ma verrebbe a mancare di concretezza nella misura in cui scoprissimo che, in realtà, la decisione di bannare Trump non deriva dalle piattaforme, ma da altri poteri. Perché faccio questo discorso? Perché sul Limes di questo mese, l'impero nella tempesta, Limes è una garanzia, lo consiglio in particolare a coloro che non avessero mai avuto modo di sfogliarlo, è forse una delle riviste più meritevoli di essere approfondite nel panorama pubblicistico italiano. Ebbene, su questo numero, che trovate in edicola, compare un editoriale firmato da Dario Fabri dal titolo, vediamo se lo trovo, dal titolo Con lo scempio del Campidoglio, il potere è passato agli apparati. L'incipit è questo. All'indomani dell'assalto al congresso, gli apparati statunitensi si sono arrogati i massimi poteri, contro Trump senza curarsi di Biden. Fabri è cioè convinto che il vero sovrano, al giorno d'oggi in America, non sia Trump e tantomeno Biden, ma siano gli apparati, ovvero queste mastodontiche burocrazie federali e in particolare i loro vertici, i quali in un momento di crisi senza precedenti nella storia americana avrebbero un po' preso il potere. Si sarebbero cioè assunti delle responsabilità che in altre fasi andavano assumendosi più in sordina, più implicitamente. In questa fase intendono dannare la memoria di Trump, cancellarne la figura, costringendo i big tech a bandirlo da ogni piattaforma, privandolo della parola. Non sarebbero cioè, secondo Fabri, i big tech Twitter e Facebook a interdire l'accesso ai social di Trump? No, al contrario. Questi ultimi, i big tech che oltreoceano in Europa sembrano particolarmente potenti e in grado di imporsi a arbitri sovrani del dibattito pubblico, sarebbero questi ultimi a inchinarsi, a genuflettersi di fronte a quello stato profondo e a quelle burocrazie che, appunto, secondo l'IMES, costituiscono il vero potere americano. Il punto viene approfondito qualche pagina dopo. Vi leggo alcune righe. Ecco, il piano degli apparati per i prossimi anni è fin troppo semplice e ambizioso. Cancellare Trump dal lagone politico. Costringere gli americani a concentrarsi sulle questioni esterne. Esisterebbe un piano, un progetto, architettato dagli apparati. Ecco, sicuramente Fabri ha un'idea molto chiara di che cosa siano gli apparati, il lettore meno. A volte si ha l'impressione di comprendere il significato di alcune espressioni perché vengono ripetute o perché tutti le utilizzano, ma poi io spesso mi chiedo, ma cosa vuol dire apparati? Di chi stiamo parlando? E poi prosegue. La damnazio memorie è istituto creato nella Repubblica Romana. Dopo i fatti del Campidoglio, oltreoceano è stata ordinata la dannazione dell'oligarca new yorkese. Su imbeccata, ecco il punto essenziale, su imbeccata della burocrazia washingtoniana, i big tech hanno accettato di sospendere Trump da ogni piattaforma a tempo indefinito, perfino acconsentendo, per costrizione e narcisismo, dimostrarsi all'estero come unici decisori in materia. La decisione non è di Twitter, ma è degli apparati, i quali avrebbero costretto Twitter a interdire Trump. Chiaramente però gli apparati non possono intestarsi una simile decisione, ragion per cui è auspicabile che siano i big tech ad assumersi questa responsabilità. Ecco perché Fabre scrive per costrizione. E aggiunge anche per narcisismo, perché forse dal punto di vista dei leader di queste grandi imprese della new economy, farsi passare all'estero come moralmente e politicamente impegnati contro il fanatismo e il complottismo è un vanto. Per cui c'è costrizione e c'è narcisismo, ma la tesi radicale è questa, e cioè che la vera decisione non l'abbiano presa i big tech, ma proprio gli apparati. E capite che questo fosse vero, io non ho gli strumenti per valutarlo, mi limito a discutere con voi questa ipotesi, fosse vero, tutto il nostro dibattito sui giganti del web che diventano sovrani dell'arena pubblica rimane interessante, ma perde di concretezza. Perché il punto è davvero un altro. È come se Fabre ci dicesse, continuate a guardare la luna, e invece in questo caso dovreste proprio guardare il dito, dovreste guardare coloro che hanno deciso, dovreste andare a monte e non a valle, mentre tutto il dibattito scatenato su libertà d'espressione, che Fabre ritiene essere interessantissimo, è però appunto un dibattito a valle che presuppone delle premesse che non sono fondate. Poi si parla appunto della vulgata mediatica, di come Zuckerberg e altri sarebbero stati percepiti, e si continua. In realtà l'oscuramento è stato ordinato dalla CIA, dall'FBI e dal Pentagono, nonostante le lamentere dei social network, preoccupati dalle conseguenze finanziarie di tale decisione. Non sarebbe nell'interesse dei network in qualche modo interdire Trump. È una scelta anti-economica. I giganti del web sono semplici gestori di tecnologie prodotte dal Pentagono, da internet al microprocessore, dal cellulare a Siri, soggetti sottoposti alle decisioni delle agenzie centrali, dipendenti da queste per la propria sopravvivenza, consapevoli di non poter mancare la prossima invenzione prodotta in ambiente militare. La spesa federale in innovazione resta il doppio di quella del settore privato. Questo è un ritornello che i lettori e gli ascoltatori di Fabri conoscono bene. In qualche modo i paesi economicisti, come l'IMES tende a chiamarli, per esempio il nostro, tendono a sopravvalutare il potere effettivo di queste agenzie, che secondo quali agenzie di questi social, che però, secondo Fabri invece, fanno parte a tutti gli effetti dell'impero americano e a quest'ultimo rispondono. Con buona pace dell'Europa occidentale, Italia in testa, a digiuno di geopolitica, appunto perché qui è come se avessimo dimenticato la sovranità e anche la dimensione politica, e quindi siamo convinti che si ha l'economia a dare le carte, mentre non è così e chi come gli Stati Uniti ha un impero, ma anche altri paesi come la Russia e la Cina, eccetera, sanno bene che in realtà non funziona così, o che perlomeno non si può sostenere effettivamente che sia l'economia a dare le carte. L'economia è imbrigliata in un cosmo politico. A digiuno di geopolitica, ingenuamente convinta, siano stati proprio i big tech a decidere il nuovo corso. Intenta interrogarsi sui limiti della libertà d'espressione, fissati da sopravvalutate aziende private, invece di cogliere la natura imperiale del provvedimento. Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate di questo editoriale di Fabri, a maggior ragione se vi capita di leggerlo. Io chiaramente non ho idea di come le cose siano effettivamente andate, quello che posso fare è cercare di ampliare il più possibile il ventaglio delle narrazioni, delle versioni a mia disposizione, nella speranza che una maggiore varietà di punti di vista sull'accaduto possa anche significare un maggiore approfondimento anche teorico e una maggiore concretezza poi delle analisi che a valle vengono fatte. Buon pomeriggio, ciao!